Sono i vicuni che si portano sul primo premio della Pignanina nel Ventino Filippo Malcone. Sono Fifi, è ancora la partenza di Manina, conquista la prima posizione, il Comune di Vitiocchi, Sì, Crescindia, Cavabli stanno per distendersi, supera la curva, è il giorno del Vettino, è ancora oscidi, è ancora oscidi, è ancora oscidi in testa, il terzo casacanese, in scuola, la seconda posizione. Sempre oscidi in primo posizione, sinistra al tango, con tene la scuola posizione, è ancora oscidi, è ancora oscidi, è ancora oscidi in più di una posizione, è ancora oscidi in più di una posizione, il terzo casacanese, Martano con Cazone e Vincolini seconda posizione, torta posizione e si scola, i cavalli si distendono e in un momento in cui si gioca la vittoria, posti del infierno, resiste al attaccio del sol. E' il corso sulla vittoria della mia, senti un'usica, in un'unica posizione, e' la mia incontesa, vince la piramina del Panacone, che marcano con Cazone e Vincolini seconda posizione.